Andiamo ora a vedere il trattamento di fine rapporto dal punto di vista del datore di lavoro, quindi dell'azienda, il quale o la quale al 31-12 deve andare a rilevare, quindi scrivere in partita doppia, la quota di TFR che è maturata in quell'esercizio. Quindi a fine esercizio, attraverso le scritture di assestamento, in particolare questa è una scrittura di completamento, va ad imputare, quindi secondo il principio di competenza, questa quota di TFR che è maturata nell'esercizio. Inoltre questa quota andrà ad aumentare i debiti per TFR esistenti all'inizio dell'esercizio. Ma questa quota di TFR maturata nell'esercizio di cui abbiamo parlato e che deve essere rilevata al 31-12, da cosa è formata? È formata primo da una quota capitale e secondo da una rivalutazione lorda dei debiti per TFR esistenti all'inizio dell'esercizio. AP sta per anno precedente, quindi si prendono i debiti per TFR esistenti il 1 gennaio che si sono ereditati dall'esercizio precedente. Ma qual è la fonte normativa che stabilisce che la quota di TFR debba essere formata da questi due punti? Chi lo dice in sostanza? La fonte normativa è l'articolo 2120 del Codice Civile, che andiamo a vedere. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso per 13,5. E questa è la quota capitale. La vediamo poi un po' più nel dettaglio dopo. Ma l'articolo 2120 dice anche che il trattamento di cui al precedente comma è incrementato con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT. E adesso lo vediamo nel dettaglio. Torniamo alle nostre slide e vediamo come si calcolano queste due parti. Cominciamo dalla quota capitale. Lo dice l'articolo 2120 che si calcola così. Cioè si prendono i salari e gli stipendi e si dividono per 13,5. Poi il secondo punto, cioè la rivalutazione lorda dei debiti per TFR. Si prendono i debiti esistenti a inizio esercizio e lì si moltiplica per una cosa piuttosto lunga che è scritta in parentesi. Eccola qua. Quindi l'1,5 più il 75% della variazione dell'indice ISTAT che è esattamente quello che diceva l'articolo 2120. Quindi occorre avere la variazione indice ISTAT. Se l'esercitazione non la dà come dato, non si può procedere. Poi si fa il 75% di questo indice ISTAT e lo si somma all'1,5. Tutto questo che viene fuori deve essere una percentuale, quindi viene calcolata una percentuale su questi debiti per TFR esistenti a inizio esercizio. Ora non abbiamo finito perché la quota di TFR necessita di altro, cioè formata da una rivalsa sul contributo di miglioramento pensioni. Intanto cominciamo a vedere qual è la fonte normativa, cioè chi stabilisce che ci vuole anche questo. Lo stabilisce la legge 297 del 92, che non è importante, vi ricordiate secondo me. Secondo me è importante che vi ricordiate semplicemente che questa rivalsa non scaturisce da una disposizione dell'articolo 2120 del codice civile. L'articolo 2120 del codice civile, che invece secondo me dovete conoscere, parla solo dei primi due punti da cui è formata la quota di TFR, e quelli che abbiamo visto nella slide precedente. Ma come si calcola questa rivalsa sul contributo di miglioramento pensioni? Si prendono i salari e gli stipendi e li si moltiplica per 0,5%, con un bel meno davanti. E adesso vediamo perché. Il datore di lavoro mensilmente versa all'INPS un contributo, quindi una somma di denaro. Questo contributo si chiama miglioramento pensioni, tanto è lo 0,50% delle retribuzioni lorde. E si chiama contributo miglioramento pensioni perché il suo scopo è quello di far sì che l'INPS con questo somma possa più agevolmente migliorare le pensioni dei nostri dipendenti. In realtà questo contributo viene anticipato mensilmente dal datore di lavoro, ma è a carico del lavoratore. Quindi a fine esercizio cosa succede? Che il datore di lavoro dice, sai che c'è? Recupero il contributo che ho versato, che ho anticipato. Ecco perché si chiama rivalsa. Perché rivalsa significa, mi rifaccio, aspetta un po' che recupero quel contributo che ho versato, che ho anticipato. Ed ecco perché c'è il meno davanti, cioè lo si toglie, perché non deve andare ad intaccare, cioè ad aggiungersi agli altri elementi per calcolare la quota di TFR. La va un po' a ridurre la quota di TFR maturata nell'esercizio. Spero che questa spiegazione possa avervi chiarito le idee riguardo alla rivalsa. Dopodiché accorre ancora d'altro, un quarto punto, l'imposta sulla rivalutazione dei debiti per TFR, stiamo parlando sempre di quelli, qua non c'è scritto, ma ci dovrebbe essere scritto, esistenti a inizio esercizio. Quindi si prendono i debiti per TFR esistenti a fine esercizio e si calcola su questi un'imposta. Come? Ah, intanto vediamo dove si recuperano queste informazioni. Chi dice che occorre fare anche questa cosa? La legge finanziaria 190 del 2014. Stesso discorso del punto 3. Secondo me non è importante che sappiate, vi ricordiate qual è la fonte. L'importante è che sappiate che anche questo quarto punto, quindi l'imposta sulla rivalutazione, non arriva, non si desume, dall'articolo 2120 del Codice Civile. Andiamo a vedere come si calcola questa imposta sulla rivalutazione dei debiti per TFR del presente a inizio esercizio. Si prende la rivalutazione, quella che abbiamo calcolato al secondo punto, e la si moltiplica per il 17%. Ovviamente, essendo un'imposta, stiamo parlando di qualcosa che l'azienda deve dare, quindi che va sottratta. Andiamo a rivedere quanto abbiamo fatto fin qui. Abbiamo detto che la quota di TFR è maturata nell'esercizio e formato. Uno, dalla quota di capitale, che si calcola facendo salari e stipendi, diviso 13,5, lo dice il Codice Civile all'articolo 2120. Due, dalla rivalutazione lorda dei debiti per TFR esistenti a inizio esercizio, che si calcola facendo debiti per TFR esistenti a inizio esercizio, per tutta quella percentuale di cui abbiamo parlato nel dettaglio, nella slide, in una delle slide precedenti. Tre, scusate, anche questo secondo punto, la rivalutazione, articolo 2120. Tre, rivalsa sul contributo di miglioramento pensioni. Rivalsa, cioè vado a recuperare quel contributo che ho anticipato e ho versato all'Inps perché, insomma, migliori un po' le pensioni, che si calcola facendo salari e stipendi per 0,5 con un bel meno davanti. Ed, infine, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione che io pago al fisco. Quindi, vado a prendermi la rivalutazione calcolata al punto 2 e calcolo il 17%, con un bel meno davanti. In sostanza, salari e stipendi, diviso 13,5, bisogna sommare la rivalutazione calcolata, come abbiamo detto. Bisogna sottrarre la rivalza, il recupero che faccio. Arrivo, pertanto, alla quota lorda di TFR. È lorda perché a questa quota devo togliere, sottrarre, quindi, l'imposta sostitutiva. Attenzione, arrivo alla quota netta di TFR. E queste ultime tre voci sono quelle che mi servono in partita doppia, come vedremo nel video successivo. Grazie. Grazie.